Ciao a tutti benvenuti nel canale in questo video vi mostrerò la posizione delle due monete viola della settimana 8 la prima moneta si trova qui dove ho messo il punto ecco zoom indietro e in avanti per mostrarvi la posizione qui e non potete assolutamente sbagliarvi perché la vedete già dall'alto quindi vi avvicinate qui potete prenderla anche in rissa squadre anzi io consiglio di farlo in rissa squadre perché avete già del materiale a sufficienza per costruirvi diciamo la costruzione attorno per non farvi scappare nessuna moneta questa è la prima delle due monete viola la seconda e ultima moneta si trova praticamente qua vicino corso commercio su questa montagna montagnetta poi non potete sbagliarvi perché come sempre la vedete già dall'alto quindi raggiungete corso commercio potete prenderla anche questa in qualsiasi modalità io consiglio ovviamente rissa squadre come vi ho anticipato perché almeno vi fate una bella costruzione e non vi scappa nessuna moneta viola questa è la seconda e ultima moneta viola della settimana 8 dwa due